Abbiamo infatti una numerosa orchestra, quelle orchestre tipiche della Romagna che allietano le feste ormai di tutta Italia perché è un tipo di musica che si è diffusa in tutta la penisola. È un'orchestra molto numerosa, sono i componenti dell'orchestra Nicolucci Bergamini e come Mieli Benzà, come Eulalia Torricelli, da dove vengono? Da Forlì. Da Forlì, l'orchestra Nicolucci Bergamini. Grazie. 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 Grazie.